Ave, soccaio Gregorio er guardiano del pretorio, nella vita ovunque vai a evitare grani e guai l'importante cari utenti è soltanto stare attenti. Prendi il caso un po' inconsueto del famoso prince amleto, che girando nel maniero rivestito tutto in nero e corteschio sempre in mano, farea proprio un menagramo. Beh, un bel giorno nel castello incontrò il fantasmarello del defunto suo papà, giunto lì dall'aldilà sotto forma di un lenzolo per svelare al suo figliolo tanto caro e tanto amato d'esser morto e trapassato, non per i funghi andati a male come c'era sul giornale, ma per mano del fratello, archiamreto nel castello fecer nodo finimundo. Mentre invece in fondo in fondo se anziché far sanguinario stava attento al calendario, si accorgeva Mondovile che era giusto un primo aprile. E capiva forse al volo che al di sotto del lenzuolo c'era Ophelia, mi rincresce che gli aveva fatto un pesce. E poiché stiamo a parlare di Guglielmo Ciac e Speare, pure Otello vi presento, che se fosse stato attento si era chiuso il barconetto, quella sera andando a letto si evitava certamente di dormire alla corrente. E al mattino, raffreddato, non avrebbe combinato quel popò di maremoto solamente come nodo perché dentro nel cassetto non trovò... E' il pazzoetto. Quindi amici sia lampante, stare attenti è l'importante. E perciò ecco per cosa, anzi, mo lo dico in prosa. State attenti che sul vostro impermeabile ci sia il marchio Scala d'Oro, il marchio che la Rodiatuce concede solo alla produzione tre volte controllata. Il vostro impermeabile è Idro Stop Terital, per esempio. Primo controllo il tessuto. E' Terital cotone antimacchia, lascia passare l'aria ma non una goccia di pioggia. Secondo controllo la confezione. Un impermeabile con Terital nel tessuto non sa cosa vuol dire pieghe. Terzo controllo le finiture. Un impermeabile Idro Stop Terital è elegante e perfetto dall'urlo al colletto. Perciò sempre attenti al marchio Scala d'Oro. Che controlla, ben si sa, la buona qualità.